È stato individuato dalla squadra mobile dell'Aquila l'autore della violenza sessuale avvenuta alla vigilia di Natale. Nella serata di ieri, 3 gennaio 2017, la squadra mobile, sezione reati contro la persona, all'esito di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica dell'Aquila, ha notificato ad un giovane trentenne aquilano, autore della violenza sessuale di cui è stata vittima una ragazza, anch'essa originaria del capoluogo abruzzese, nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, il provvedimento del divieto di avvicinamento alla parte l'ESA, emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo abruzzese. Le indagini della mobile sono state avviate nella stessa serata della vigilia di Natale, allorché, al termine della denuncia, la giovane ha fornito la ricostruzione di quanto subito, confermata anche dal referto medico emesso dall'ospedale San Salvatore dell'Aquila, aggiungendo agli investigatori della questura di essersi trovate in uno stato di semi-incoscienza in seguito alla consumazione di due drink. La ragazza, nel corso di una serata trascorsa in un locale dei dintorni dell'Aquila, assieme ad un'amica, ha conosciuto un giovane che, al termine della serata, l'ha invitata a seguirlo, sebbene la vittima si sentisse stato confusionale. Il trentenne, una volta salita a bordo della propria auto, la vittima si è addiretta in un posto isolato nei pressi del lago di Sinizzo, dove ha costretto la giovane a subire un rapporto sessuale, abbandonandola immediatamente dopo, seminuda, in un posto isolato. La giovane è stata ritrovata dall'amica, che nel frattempo, avendola persa di vista, ha iniziato a cercarla, contattandola sul proprio smartphone, rimasto all'interno dell'auto del violentatore. In seguito alle numerose chiamate senza risposta, inoltrate verso il cellulare della ragazza, lo stesso trentenne ha richiamato l'amica della vittima, indicandogli dove l'aveva abbandonata, e portandosi lui stesso sul posto per restituire gli indumenti e il telefonino della giovane 21enne. Le indagini condotte dalla mobile sono arrivate ad una svolta circa l'identità dell'autore della violenza, tra il giorno di Natale e Santo Stefano, allorché, grazie ad una serie di testimonianze di persone che si trovavano nel locale nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, è stato possibile risalire all'identità del giovane trentenne e anche alla vettura in disponibilità, descritta dalla vittima e dai testimoni con dovizia di particolari, relativamente al colore e alla nazionalità tedesca della casa automobilistica del veicolo. Il veicolo in cui è avvenuta la violenza è stato sequestrato dalla mobile, sul delega della Procura della Repubblica, in attesa che la scientifica faccia tutti gli accertamenti tecnici tesi a rilevare tracce biologiche nel veicolo. In seguito, nei giorni di Natale e Santo Stefano, gli investigatori della mobile, coordinati dal dottor Tom Masoniglio, hanno sottoposto in visione alla vittima e ai testimoni un album fotografico dove è stato riconosciuto dalla vittima il giovane trentenne come autore della violenza subita e dai testimoni la persona che si è allontanata dal locale con la ragazza.